Tifosi bianco celesti ben ritrovati con Entella Time, il notiziario per non perdersi nulla di tutto ciò che accade nel mondo Entella. Siamo entrati ufficialmente nella settimana di lavoro che porterà i bianco celesti a scendere in campo sabato alle 17.30 al Mapei Stadium, Città del Tricolore, per affrontare la capolista reggiana. Quest'oggi la ripresa degli allenamenti nel pomeriggio al campo sportivo di lei. Entella si allenerà qui tutta la settimana sul campo in erba naturale per preparare meglio questa delicata partita venerdì nel pomeriggio. Ci sarà poi la partenza per Reggio Emilia. Per assistere al match nella giornata di ieri è scattata la prevendita al sito internet di riferimento www.vivaticket.com. Tutte le ricevettorie autorizzate a Chiavari, Tabaccheria, Metaldi. Non sarà l'unica sfida per i bianco celesti contro una capolista perché anche la primavera scenderà in campo nella giornata di sabato alle 14.30 ad Ascoli. Contro la capolista Ascoli parliamo del campionato di primavera 2 con i bianco celesti reduci della bella vittoria per 4-1 nel derby con lo Spezia. Sarà quindi un fine settimana ricco di passione e vi accompagneremo in tutta la settimana. Entella Time torna domani puntuale all'ora 19.00.